Povero a me, che male schiena, sono a pezzi. Non lo dire a me, mi fa male il gomito. È meglio che non ve lo dico cosa mi fa male a me. Ragazzi, avete bisogno di fare un po' di ginnastica. A proposito, nella prossima puntata di 3 minuti con noi parleremo di educazione fisica. Non mancate!